E' strano il 23esimo Vediamo un po', la regia adesso ci aiuta, siamo stati veramente colpi Ma è andato nel giro, in questo giro, l'ultimo traguardo Sì, magari Sì, magari Sì, è stato il peggio con la mano, la gara è già finita Si vedete però, no, non ci credo Uh, non ci credo Non si è perso totalmente No, Alessandro Rossi stava girando